Vigilia di Ferragosto qui a Piacenza, le strade del centro cittadino si sono spopolate, molti sono infatti i piacentini che hanno deciso di passare altrove le proprie festività, ma qualcuno è rimasto in città e lo abbiamo intervistato. Come mai in città la vigilia di Ferragosto? Perché devo comprare un regalo di compleanno e quindi ho fatto anche presto perché non c'è in giro nessuno. Domani pranzo in famiglia, piscina? Ma penso picnic con gli amici, sì sì, in collina, sì, penso però dov'era. Sono già stata in montagna e mi sono rotta anche un po' il piede, il quinto metà tarso, poi da brava aspettavo, aspettavo, aspettavo e non sapevo che era rotto e allora faccio le ferie in città. Però comunque insomma... Sono già andata in montagna a Molveno, sì. Quindi le sue vacanze se le hai già fatte? Poi sono in pensione e sono sempre in vacanza. No, sono rimasta quasi tutto il tempo a Piacenza. Ok, piscina con gli amici, così, trebbia magari. Sì, no, sì, in piscina. Quindi domani rimani qua o...? Piacenza, credo. In città? Eh, purtroppo sì. Domani rimane in famiglia, fa un pranzo? Sì, sì, a casa, a casa tranquilli. A Rivergaro? Io parto settimana prossima, quindi temporeggio. Rimaniamo e andremo a fare un giretto il giorno di Ferragosto con la famiglia, classica città. Dove andrete di bello? In Piemonte, in un paesino del Piemonte. Domani Ferragosto come lo passerai? Domani una bella grigliata con gli amici, come bisognerebbe passare un vero Ferragosto.